Benvenuti a tutti e grazie a tutti per essere venuti qui oggi a Brescia per questo nostro terzo appuntamento per ora tocca a noi per discutere del prossimo programma per i regionali della Lombardia. Sarò brevissimo perché siamo... non si sente? Ah ti dicevo che alza un po'. Pronto? Si sente allora? Perfetto allora rifaccio. Benvenuti e grazie a tutti per essere qui al terzo appuntamento con ora tocca a noi con il nostro percorso per condividere e mettere nero su bianco il nostro prossimo programma regionale per le regionali della Lombardia per le prossime lezioni. Sarò brevissimo, vi ricordate il primo appuntamento è stato a Mantua, abbiamo discusso di ambiente, energia e agricoltura. A Bergamo abbiamo discusso di sanità, edilizia popolare, redditi di cittadinanza e oggi qui a Brescia i temi che sottoporremo alla discussione e all'attenzione sono consumo di suolo, trasporti, società partecipate, anticorruzione e antimafia. Brevemente la giornata sarà la mattina, le relazioni con gli esperti, al pomeriggio i gruppi di lavoro come abbiamo fatto con gli altri appuntamenti che saranno... ci troveremo nelle salette giù lì che poi ovviamente oggi pomeriggio vi faremo vedere dove sono. La mattina fino a luna più o meno, poi c'è la pausa pranzo, c'è la possibilità del ristorante qua sotto per andare a mangiare, c'è un barettino oppure per chi vuole può andare a fare un giro a Brescia, ci sono locali, insomma massima libertà. Riprenderemo nel pomeriggio con i gruppi di lavoro per le due e mezza, insomma due e mezza, un quarto alle tre, per chiudere poi la giornata intorno a un quarto alle cinque, le cinque. Questo è velocemente il programma della giornata. Lascio subito la parola alla mia collega Yolanda Nanni che vi introdurrà il primo tema di questa mattina che è il tema del trasporto pubblico locale. Grazie. Grazie Giampi. Allora innanzitutto un ringraziamento a tutti voi per aver fatto questo sacrificio perché oggi parleremo di contenuti e di temi molto seri e anche complessi per molti aspetti, quindi in una giornata estiva, in una giornata di caldo, il che insomma dà sempre un po' il polso di quanto il Movimento 5 Stelle ci tenga a portare il vero cambiamento all'interno del Paese e della nostra regione. Allora noi partiamo con un tema topico, un tema di estrema attualità. Avrete letto su tutti i giornali in questi giorni, avete visto anche nei TG regionali del Caos Training che c'è stato a giugno. Tutte le linee ferroviarie della Lombardia ne hanno sofferto, soppressioni, treni in ritardo, qualità del servizio zero, cioè persone costrette a viaggiare su carrozze sovraffollate senza neanche l'impianto di condizionamento attivato con 40 gradi fuori e quindi anche un rischio per la sicurezza e l'incolumità degli stessi lavoratori che sono su questi treni ma anche dell'utenza. Una completa debacle, una debacle annunciata più volte dal Movimento 5 Stelle che in questi quattro anni ha dato battaglia per un primo fondamentale punto dal quale poi nascevano tutti gli altri che avrebbe dovuto fare la giunta Maroni e non ha fatto e cioè portare la trasparenza e oggi capite perché il valore di questa parola è declinabile in ogni ambito, in ogni settore in cui si vuole cambiare le cose veramente la trasparenza all'interno della governance di questi organi che sono partecipati da Regione Lombardia. Oggi Maroni ci dice che per mettere a posto il sistema ferroviario Lombardo occorrono un miliardo e mezzo di soldi dei Lombardi ovviamente che lui dice di non avere. Quello che non dice è che in questi quattro anni oltre un miliardo e sei è stato dato dalla Regione a Trenord e non si sa che fine ha fatto questo fiume di soldi. Una società che spesso e volentieri affida i servizi senza bandi di gara e adesso capite fra poco dal relatore che vi sto per presentare quanto è importante fare bandi di gara di evidenza pubblica, quanto consente di risparmiare soldi, quanto consente al pubblico di poter efficientare le aziende che si occupano di trasporti. Ecco io per ora chiudo qui perché siamo partiti in ritardo e perché abbiamo degli insigni relatori, il primo dei quali è il dottor Bruno Rota che tutti conoscerete, gli dedicherei un applauso, ex presidente, direttore generale di ATM Milano dal 2011, colui che ha portato il bilancio di ATM in attivo e adesso magari qualche trucchetto ce lo spiegherà. Oggi a Roma direttore generale dell'ATAC, la municipalizzata più malmessa di tutta Italia e non per colpa del Movimento 5 Stelle nel tentativo di un rissanamento aziendale che ha del miracoloso ma con il Movimento 5 Stelle anche i miracoli si avverano. Grazie, il Corriere della Sera quando sono arrivato a Roma ha fatto un articolo che mi ha gratificato, mi ha detto che sono il mago dei trasporti e dopo pochi giorni era un dibattito pubblico, è stata l'ultima volta che sono andato questa dopo tre mesi che sono a Roma è la prima volta in cui parlo in pubblico e alla giornalista di Sky TG24 che faceva da moderatore mi ha detto il mago dei trasporti qual è la ricetta per l'ATAC di Roma e ho detto che per l'ATAC di Roma non ci vuole un mago dei trasporti ma ci vuole un esorcista perché un'azienda conciata come è conciata l'ATAC di Roma io onestamente ho 62 anni, ho lavorato da quando ne ho 24 non ho mai visto una cosa del genere e se faccio una piccola critica che forse è una grande critica alla giunta che adesso ha in mano la città di Roma è di non aver denunciato immediatamente la situazione in cui questa azienda è stata conciata in questi anni perché è un'azienda che ha perso un miliardo e cento milioni in otto anni, un'azienda che in certi anni ha perso 180 milioni e l'anno dopo ne ha persi 140 è un'azienda che di fatto come struttura patrimoniale non c'è più, è un'azienda che ha debiti per un miliardo e 300 milioni ed è una coincidenza che sia uguale al numero delle perdite perché voi sapete che uno può avere anche i bilanci sempre inutili e poi avere un debito perché sta facendo investimenti virtuosi, sta comprando treni eccetera non è il caso dell'Atac, l'Atac ha un parco mezzi che ha un'anzianità di 13 anni che quindi è uno dei più alti in Italia e è una situazione in cui superata questa difficoltà che comunque parlo con della gente che si occupa di politica quindi è un tema anche politico c'è la difficoltà di dover spiegare perché questa drammatica situazione non è stata detta subito perché forse sarebbe stato anche più semplice perché la colpa nel caso di Roma di cui poi siccome io sto a Roma ormai fisso e quindi il primo giorno che vengo in Lombardia di Atac non parliamo più perché è abbastanza pesante parlare di Atac dicevo la situazione è tale per cui bisogna fare un bagno di verità cioè dire alla gente, ai romani, agli italiani perché Roma è veramente una città che è piena di turisti l'idea che si fanno dell'Italia è quello che vedono a Roma, pensano che i mezzi in Italia siano come Roma e questo è un problema che quindi non può essere lasciato solo ai romani deve diventare un problema di tutti e di tutta la nazione e quindi bisogna dire la verità per anni sull'Atac non si è detta la verità, si è nascosta la polvere sotto i tappeti non si sono fatti investimenti, si è consentito al personale di fare quello che volevano perché la verità è anche quella e adesso secondo me il sindaco Raggi proprio recentemente mi ha ribadito la sua volontà di fare questa presa di coscienza sulla verità della situazione ed è una cosa che gli farà onore qualunque siano le conseguenze perché comunque conseguenze ci saranno perché io le cose che ho visto in questi tre mesi da parte della stampa romana nei confronti di quello che succede di fatti amministrativi onestamente non l'ho visto da nessuna parte non sono del Movimento 5 Stelle non sono del Movimento 5 Stelle ma capita che gli introiti dei biglietti sono cresciuti lievamente nei primi cinque mesi dell'anno e il Corriere della Sera, tanto per non fare nomi, titola Crollo dei biglietti dell'Atac a Roma Crollo! e per avere pubblicata la rettifica l'Atac e la Giunta di Roma ci ha messo tre settivane e ha dovuto chiedere un'ingiunzione da parte di un avvocato perché non volevano pubblicare la precisazione io una cosa così non l'ho mai vista in tutta la mia vita poi c'è un altro quotidiano che si chiama Repubblica che addirittura le rettifiche non le pubblica e questa è una cosa che francamente un po' spaventa perché comunque alla gente poi ci si riesce a arrivare io sono ancora convinto molto attraverso i giornali attraverso le televisioni e quindi se questi non raccontano la realtà è veramente molto molto difficile molto molto difficile far trappelare la verità allora io oggi mi hanno detto che ho 15 minuti giusto? 5 li ho già persi quindi vorrei raccontarvi sostanzialmente le dimensioni del trasporto pubblico e locale in Italia perché è una cosa di grande dimensione quantitativa ma è una cosa che poi impatta sulla vita di tutti tutti i giorni e non solo per i problemi che ricordava la Yolanda ma perché attraverso un trasporto pubblico efficiente si può migliorare la vita delle persone avere una crescita del PIL in misura significativa e favorire una crescita economica più equilibrata di quella che è stata garantita negli ultimi 15 anni attraverso una serie di opere per lo più stradali o infrastrutturali di utilità estremamente modesta attraverso quattro grafici, quattro lucidi poi vi dico grosso modo il percorso sarebbe evidenziare la necessità di investimento all'interno del trasporto pubblico locale in tutti i suoi segmenti ferrovia, ferrovia regionale, trasporto locale vi vorrei poi dire che il tema che oggi si sta dibattendo anche ho visto al vostro interno perché si parla molto di affidamenti con gare o affidamenti diretti e vorrei, e di questo sono molto sicuro e me ne prendo la responsabilità sfatare una bugia che anche in questi giorni a Milano sta girando cioè che l'affidamento diretto sia una cosa che non si può fare che la comunità europea l'abbia proibita è una grossa bugia la comunità consente assolutamente alle amministrazioni locali di fare l'affidamento ad una propria azienda senza procedere a gara non sta a me oggi dire qual è dei due sistemi il migliore dico semplicemente che sono entrambi sistemi leciti che sono entrambi sistemi abbondantemente usati anche all'estero e che quindi dire che c'è solo la via delle gare competitive in cui può arrivare chiunque a fare l'offerta per il trasporto locale non è una cosa vera perché la legislazione non dice assolutamente quello a sostegno delle ipotesi dell'affidamento diretto è che quando il comune, la realtà locale, la realtà stessa regionale ha un'azienda che ha dei parametri di efficienza e di buon servizio ai clienti e soprattutto non perde soldi il continuare con un'attività virtuosa può essere una soluzione quindi andare a gara o andare con affidamento diretto sono entrambe le cose scelte legittime poi le forze politiche dovrebbero secondo me con chiarezza volta per volta dire qual è la loro opzione dirlo magari prima delle elezioni così un cittadino poi sa se si riconosce più o meno in quella ipotesi ma no alla storia che sta girando Milano adesso per cui l'affidamento diretto non si può fare è vietato non è vero in Francia ci sono un sacco di affidamenti diretti un sacco di municipalità che hanno un'azienda locale di trasporto che evidentemente risponde prontamente alle sollecitazioni dei cittadini degli eletti dà un servizio decente e non perde denaro e continuano con affidamenti diretti l'ATM forse lo sapete tra le sue cose positive gestisce la metropolitana di Copenaghen ha iniziato con un affidamento diretto ma non attraverso la municipalità ma semplicemente chi aveva realizzato l'opera doveva garantire i primi due anni di gestione ha chiamato l'ATM di Milano e gliel'ha fatta gestire i primi due anni alla fine dei due anni il comune anzi là c'è l'autorità l'autority ha messo in gara il servizio l'ATM l'ha vinto e esercita l'attività della metropolitana di Copenaghen siccome i parametri economici sono particolarmente soddisfacenti per dirla brutalmente l'ATM fa parecchi utili a Copenaghen abbiamo cominciato a guardare se c'erano altre possibilità di gestire altre città all'estero con queste caratteristiche e l'ATM è pronta a partecipare alla gara di Lille in Francia altre città Nantes che sono per dimensioni per tipologia interessanti siamo andati là però ci hanno detto che siccome l'azienda del comune di Nantes nel caso specifico sono bravi sono efficienti costano poco avrebbero continuato con loro come si fa a dire che sono bravi sono efficienti e costano poco e l'ultima parte del mio intervento vi volevo dire cos'è un contratto di servizio e perché il contratto di servizio è uno strumento di grande trasparenza uno strumento che i cittadini devono conoscere che è uno strumento che si può spiegare con grande semplicità e che chi si chiude dentro il tecnicismo con parole astruse è perché non vuole far capire cos'è il contratto di servizio il contratto di servizio è uno strumento di trasparenza è uno strumento attraverso cui il cittadino può in qualsiasi momento sapere nell'anno 2017 quanto ho speso per il trasporto pubblico locale di quell'area quanti chilometri ho fatto che tipo di servizio ho avuto l'anno dopo il 2018 quanti soldi ho per lo stesso tipo di servizio quanti chilometri ho sviluppato che tipo di servizio ho avuto con un contratto di servizio ovviamente il più possibile dettagliato e i contratti di servizio in Italia sono una prassi che non è molto molto radicata è una cosa che si sta sedimentando ma tanto più si va avanti e tanto più si difende i contratti di servizio tanto più quello che le aziende di trasporto riescono o non riescono a realizzare diventa una cosa misurabile giudicabile e come tale sottoposta poi al fatto che la gente la approva o non lo approva il tenere tutto in un ambito parliamoci spieghiamoci mettiamoci d'accordo non va bene non è una cosa di trasparenza il contratto di servizio tra ATM e il Comune di Milano che peraltro non ha fatto né questa giunta né la precedente ma la fece la giunta Moratti pochi mesi prima di andare a finire il suo mandato è un contratto di servizio che è durato sette anni consente di vedere l'evoluzione dei conti nel tempo è uno strumento che adesso potrebbe essere ripresentato invece di 80 pagine probabilmente ce ne vorranno 160 perché con la pratica alcune cose si sono si sono affinate per esempio come si calcola l'indice di inflazione cosa si prende come riconoscimento di lievitazione dei prezzi qual è l'indice più appropriato per un'impresa di trasporto tutte cose che si possono affinare però lo strumento va salvaguardato avendovi già raccontato tutto quello che dico in pratica abbiamo quasi finito e se facciamo vedere soltanto le dimensioni si può come andare come è lo stesso se andiamo ecco questo qui sono le immatricolazioni del parco autobus in Italia è un andamento che fa pesantemente riflettere solo costantemente in calo quindi in questo settore un dato numerico quantitativo difficilmente contestabile è un indicatore tangibile del fatto che nel settore del trasporto pubblico locale bisognerebbe scendere ecco le immatricolazioni hanno raggiunto un livello infimo ormai nel 2015 che è l'ultimo dato di questa situazione il governo per quasi un anno e mezzo non ha stanziato contributi a favore dell'acquisto dei bus un per l'altro la Lombardia è tra le regioni virtuose perché un po' di soldi sul trasporto locale ce li ha messi certamente con questi ritmi qui il parco dei mezzi in Italia è destinato a crescere perché un esempio facile sul parco mezzi dell'ATM il parco mezzi dell'ATM è il più basso oggi in Italia è sugli otto anni ed è composto da circa 1450 mezzi se tu non hai la forza economica di cambiare almeno 150 mezzi ogni anno la tua età media per il solo effetto del trascorrere del tempo ti aumenta quindi le risorse per fare questi investimenti devono diventare un elemento di di sollecitazione a chi farà il programma elettorale perché attraverso investimenti nel trasporto pubblico locale si può appunto dare una svolta alla vita delle persone il dato di questa tabella mostra che no ma lasciamoli fuori va che è più facile così ecco quello che è preoccupante non è neanche tanto questo qua che comunque è una contrazione del parco bus esistente in Italia ma era quell'altro grafico di prima se lo possiamo rimettere che sono il numero delle immatricolazioni che sono costantemente in calo proviamo ad andare avanti con un'altra così poi le togliamo via non ci facciamo più distrarre da queste cose quelle dopo andiamo avanti va ma quello è sempre lo stesso quello dopo sì una tabella che si legge poco perché andavo ingrandito un pochettino comunque siccome me la ricordo abbastanza memoria sostanzialmente in Italia ci sono in Italia ci sono mille aziende di trasporto pubblico si fa molta chiacchiera sul fatto che ci sia bisogno di una concentrazione tra ATM e Trenord io penso che ci sia un grosso bisogno di concentrazione in Italia tra aziende di piccole piccolissime dimensioni perché quelle si non raggiungono la massa critica per poter fare acquisti per poter fare programmazione del servizio le imprese grandi soprattutto imprese come come appunto ATM che fa un miliardo di euro di fatturato e qui vi dice che la dimensione globale del 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 mercato vale 1-9 miliardi di vetture chilometro pensate l'ATM da sola ne fa 170 milioni se andiamo avanti con l'altro anche 5 miliardi di passeggeri al trasporto locale 126 mila addetti anche qui l'ATAC di Roma ha 12 mila addetti quindi è quasi il 10% del settore del trasporto pubblico un'azienda sola l'ATM di Milano ne ha circa 9500 e sostanzialmente fa lo stesso fatturato fa un miliardo di euro di fatturato cioè sono due aziende che da sole fanno il 20% delle dimensioni del del trasporto ah come funziona un'azienda di trasporto perché se no questa cosa qui resterà sempre allora in Europa e sarei tentato di dire sì nel mondo le aziende di trasporto pubblico non coprono i loro costi con i biglietti allora chi racconta che questa sia un'anomalia italiana prende in giro la gente lo dice la parola stessa è un servizio di trasporto pubblico è un servizio pubblico pensare di coprire il 100% dei costi con i biglietti è una presa in giro non lo fa nessuno non lo fanno in Francia non lo fanno in Germania non lo fanno da nessuna parte c'è questo mito di Londra che invece con quei biglietti altissimi che ha riesce a coprire tutti i costi ma questo si può anche continuare a dire perché perché i conti delle aziende londinesi non le conosce quasi nessuno mentre invece i conti delle altre aziende sono pubblici allora lo sforzo cos'è? è cercare di coprire con i biglietti la quota più alta possibile di costi si può fare in due modi aumentando i biglietti a dismisura oppure contenendo i costi a un livello tale per cui un livello accettabile dei biglietti copre una percentuale sufficiente la media italiana non arriva al 30 35% è una percentuale che assolutamente bisogna riuscire ad aumentare i biglietti possono sembrare cari ma c'era un lucido che adesso non proiettiamo anche perché mi sono accorto quando l'ho mandato che era un po' vecchiotto ma che dà l'evoluzione di una serie di beni di prima necessità il latte il pane l'aperitivo dell'happy hour il biglietto della partita lo guardava per un arco di tempo di 11-12 anni e il biglietto del trasporto pubblico locale addirittura in termini reali è sceso e quindi io so che chi paga ha l'impressione di pagare molto ma pensate i biglietti del trasporto locale vengono aumentati di tanto in tanto non c'è un'indicizzazione non è come le bollette del gas che ci arrivano a casa hanno già recuperato l'inflazione o quelle dell'elettricità che è tutto automatico ecco un settore quindi su cui negli ultimi anni non si è investito su cui bisogna assolutamente investire la retratezza del parco è uno dei motivi per cui le aziende non riescono a dare il servizio che dovrebbero dare ai cittadini quindi un punto forte su cui bisogna costituire costruire consenso è l'investire sul trasporto pubblico perché investire sul trasporto pubblico locale fa crescere l'economia nel suo complesso e fa star meglio i cittadini mi hanno detto che ho finito il tempo e l'ho finita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti